e benvenuti a Oremos de Calcio. In quest'ora è scoppiato il caso Simen, badate bene il riferimento non è all'atteggiamento avuto al momento della sostituzione durante la partita di Bologna, uno dei tanti a dire il vero. No, in quel caso il signor Calenda, agente del nigeriano, si è guardato bene dal parlare. Il caso è scoppiato per un video pubblicato su TikTok ritenuto talmente offensivo da far minacciare azioni legali. Questo perché condiviso sul profilo TikTok del Napoli. Di cose da dire ce ne sono. Prima però come di consueto vi invito a iscrivervi al canale. Il video in questione ironizza sul calcio di rigore fallito da Oseman contro il Bologna. Questo sì che ha creato un gravissimo danno al Napoli. Ancora una volta Calenda tace. Fatto grave, valutiamo azioni legali. Un tweet fatto a tarda sera ma in tempo utile affinché lo riportassero siti web e tv. Chissà forse avevano attivate le notifiche proprio del profilo Twitter di Calenda. Chi non avrebbe potuto rispondere in tempo era proprio il Napoli. Che dire, tempismo perfetto. C'è stata tutta la serata di ieri e questa mattina per scatenare il putiferio e infatti non si è perso tempo. A proposito, tra poco ore si gioca Udinese e Napoli. Bravo Calenda che magari potrebbe farci la cortesia di spiegare di quali fake news parla ma soprattutto di quale processo mediatico. Calenda avrebbe potuto fare una cosa semplice. Anche se naturalmente non avrebbe scatenato tutto il clamore a cui stiamo assistendo. Forse l'intenzione era proprio questa. Il procuratore avrebbe potuto chiamare l'ufficio stampa parte europea o chi per esso e chiedere spiegazioni. Questo è ciò che farebbe chi non è interessato a creare problemi, a creare tensioni. Ora Calenda non si lamenti se qualcuno comincia a pensare che dietro tutto ciò ci sia una strategia precisa. Finisce che qualcuno si mette a unire i puntini e si inventa storie del tipo che Osimène protesta platealmente per una sostituzione e anzi pretende di dire a Garzia come giocare solo per creare problemi o facilitare la sua cessione. Non è così. Il carattere di Osimène lo conosciamo, vero Calenda? Protestare con l'allenatore lo ha già fatto, è successo pure con Spalletti. Il problema è che poi si aggiunge un altro puntino da unire. Osimène cancella da Instagram le foto con la maglia del Napoli. Ne è rimasta uno scattato nella partita con i Frosinoni. Mi sarà sfuggito, non lo so. Ci sono quelle con la Nigeria. Peccato che la Nigeria non gli paghi lo stipendio. Allora qual è il messaggio che si vuol far passare? Che De Laurentiis è cattivo di questa storia ridicola? Che il problema è il presidente del Napoli? E voglio sorvolare anche se forse non dovrei farlo su alcuni articoli usciti un paio di giorni fa che insinuano che il colpevole del pessimo avvio del campionato sia proprio De Laurentiis che reo di aver fatto un calciomercato non degno di una squadra campione d'Italia e di aver ingaggiato a Garcia. Anche queste sono coincidenze. Come mai signor Calenda le trattative per il rinnovo del contratto di Osimène si sono arenate? Sempre che lei abbia mai avuto la reale intenzione di trattare. Anzi come mai non se ne parla più? Io non so se davvero siano stati offerti 11 milioni di Osimène. Magari sono chiacchiere. Forse De Laurentiis l'ha fatta arrabbiare per le commissioni, non sarebbe il primo ma magari mi sbaglio. Tuttavia so che Osimène è una gallina dalle uova d'oro e che in fondo rinnovare il contratto con il Napoli non conviene né a lei e né a Calciatore. Meglio allora accelerare le cose e soprattutto far abbassare il prezzo del cartellino senza penetrare scatole quella clausola recissoria sulla quale difficilmente troverete un accordo perché lei sa che nessuno pagherà 180 milioni per Osimène e probabilmente neanche 150. Allora meglio arrivare a fine campionato, magari da separati in casa. A quel punto sarà tutto più semplice per lei che forse ha già in tasca un paio di offerte interessanti. Va bene così, alla fine ciò che conta è il Napoli, non Osimène. Tanto che sarebbe andato via l'anno prossimo, anche con il contratto filmato non era un mistero per nessuno e di questi giochetti io ne ho le scatole piene. Come sempre fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un commento. Mi raccomando non siete offensivi altrimenti Calenda si incazza, Osimène mi blocca su Instagram e sarò costretto a cancellare i commenti. Ciao e ci vediamo alla prossima volta.